Un uomo senza fissa dimora, di 60 anni, di origine tunisina, è stato trovato morto nel pomeriggio di mercoledì 17 novembre, poco prima delle 4, sotto i portici del palazzo AXA, in via Don Sturzo, a Milano, vicino alla stazione di Porta Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e i carabinieri, che però hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo, avvenuta qualche ora prima. Le cause del decesso sono ancora da accertare, ma dalle prime ricostruzioni potrebbero essere naturali, dovute alle diverse patologie di cui soffriva il sessantenne, aggravate dal suo abitare per strada. A dare l'allarme, a chiamare aiuto, è stato un altro clochard che viveva come la vittima negli accampamenti di fortuna presenti nella zona. È stato possibile risalire all'identità dell'uomo da un documento che aveva in tasca. Sul luogo del ritrovamento sono state inviate un'ambulanza e un'automedica. Nelle vicinanze del ritrovamento del cadavere, a maggio scorso era stato ritrovato un ragazzo di 25 anni. Anche in quel caso, ad avvisare la polizia, era stato un clochard che, una volta notato il corpo immobile del 25enne, in un punto utilizzato come riparo di fortuna dei senza fissa dimora, aveva allertato la macchina dei soccorsi. Le indagini sulle cause del decesso erano state affidate alla polizia ferroviaria. La zona, comunque, che è spesso riparo di persone senza una casa in situazioni di forte indigenza, è diventata tristemente celebre, soprattutto con le temperature più rigide, per il ritrovamento di altri corpi. Due vittime all'inizio di quest'anno erano state trovate morte a causa del freddo. Grazie.